musica ok ed eccoci per quest'altra parte del gameplay di Metal Gear 4 qui con bari 93 bar può permettere dopo esserci fattino la stessa cosa eh vabbè si perchè bari 93 bar non avevo salvato e tu non è che me lo ricordi eh grazie bravo ma bravo complimenti bravo Snake il trail è split up in molte direzioni guarda nemmeno le fatture eh penso che sia questa la zona ti va di vedere qualcosa di interessante? si qualcosa di divertente, sfumeggiante si no perchè? è bello eh vabbè è una memoria grande quanto quella di un porcellino di me no questo è un po' di giù non è un bel no no allora no eh oh merda quella è la strada perchè le armi di Naomi sono più piccole e a punti no il giovane voi scatti di infatti di un bis no eh no ma ho sentito mi che sono bella questo hai capito ecco chi è perché quello detto bella ricordiamo che ne abbiamo già fatto un doppiaggio bella ischie movie 1 chiamato per l'appunto bella ma ecco quello è il cadavere di uno che è ucciso viola ciao amico ehi faccia di ciola e che cazzo bucchi figata un posto per passare le vacanze con scuola 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 un genio se ne è accorto dopo mezz'ora di cammino riusciva a trovare qua hai sentito? si eh vabbè la è quello che diavolo è forse sei lì dentro? ma va vaffanculo mi sembrava strano che questo che puttani hanno registrato bosco quanto lo odio si 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 parla parla non ti gasare non c'è che cavolo adesso siccome stavamo per essere assaliti da altri bastardi drabbin ci da un passaggio ehi faccio di ciola non ti permette come ti dice che sta dicendo? nonno? mi ha chiamato nonno non vedi la faccia? la faccia è giovane il resto che da giovane oh non è che cazzo è tutto a noi snake fai questo snake fai quello sempre a snake fai tutto il lavoro maledetto che schifo c'è il sangue sulla telecamera fa il ca fai per favore patti patti pico di titano oh va va fai ma sta parlando da solo così sta ascoltando che figata a quelli che non hanno aggrappato di l'acqua qui ci vuole Chuck Norris e con un palcio a volante fa volare in carri armati apri, 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 sei, una, due intanto c'è ancora quello che tenta di salire ma dove l'accelerata? è inolabile è che figata è che figata ma che fiene non fatto i cosi? è che figata ma sta scledando, parla da solo come fai maniere aggrappato così? wow come i virili semplice pass prendi, prendi che figata questo non ha più senso adesso ci vediamo una scenetta finale con Rider quella quella che piace a te bellissima grazie grazie grazie